Continuano le iniziative di cittadini che chiedono all'amministrazione di realizzare il palazzetto dello sport. C'è stata anche una raccolta firme, che cosa ne pensa il sindaco? Sì, credo che anche ieri sera, ne abbiamo parlato all'interno del gruppo di maggioranza, sia utile riuscire a incontrare queste persone anche in un'assemblea pubblica. Mi auguro che ci lasciano le festività natalizie un po' tranquilli, proprio per affrontare al meglio questo tema, perché questa amministrazione ha detto che non voleva la realizzazione di un palazzetto dell'importo di 4 milioni e 400 mila euro. Quindi questo è il primo punto su cui vediamo se riusciremo a essere d'accordo. Su quello che riguarda la struttura di un palazzetto, di una struttura polivalente, di una struttura indoor, il PIVAL Flash, così come l'abbiamo sempre chiamato, rende a livello di standard l'importo di 2 milioni di euro. Quindi noi siamo qui in questo momento anche per esaudire, diciamo, un po' quali sono le richieste della cittadinanza, che però devono essere fatte in modo chiaro, senza polemiche e soprattutto con conoscenza dei dati. Vorrei dire che, ma lo so che questi signori già sono a conoscenza, questi stessi piani integrati hanno già prodotto oneri per 1 milione e 100 più 450 mila, più 980 mila euro per la lottizzazione della Clusonia. Quindi un importo simile c'era già stato versato negli anni 2005-2010 e di raccolte firme non se ne era parlato, ma i soldi c'erano forse già anche allora, utilizzati per qualche altra iniziativa. Siccome poi legato a questo c'è una parola un po' strana che è boulevard, che non mi sono mai permesso di dire e quindi non so chi abbia lanciato questo nomignolo, ma che preferirei chiamarlo attraversamento urbano. Credo che sia innegabile davanti agli occhi di tutti quanto sia pericoloso in questo momento il nostro attraversamento che separa tranquillamente la città alta dalla città bassa e che ha bisogno di essere rivisto, o almeno noi individuiamo anche in questo una necessità per la nostra città. Perché chi ci passa quotidianamente abbiamo delle attività, abbiamo degli attraversamenti, l'ho già ripetuto, abbiamo la scuola, l'oratorio, quindi l'intenzione è quella di riuscire a dare più sicurezza a quella strada. Quindi anche lì sarà meglio fare un po' di chiarezza. Il progetto di questo che chiamate boulevard, ma che preferirei chiamare attraversamento urbano della città di Clusone, deve fare ancora tanti passi, siamo un progetto preliminare, quindi è un'idea di massima, un'idea per mettere in sicurezza quello che oggi deve unire comunque la città alta, come ho detto prima, la città bassa e mettere in sicurezza quella strada. Si dice però che le associazioni sportive di Clusone hanno bisogno di un impianto simile per le loro attività. Sì, le associazioni sportive possono necessitare di questo palazzetto. Devo dire però che in genere le associazioni sportive poi utilizzano sempre dalle 18 alle 22 e quindi abbiamo sempre un ingorgo di utilizzo di questa struttura per le associazioni sportive. Quindi anche lì bisogna capire al meglio quali sono le necessità. Certo, tra le necessità io credo che i primi fruitori delle palestre sono anche i ragazzi delle scuole medie che oggi hanno una palestra della scuola Mediaprina che è tanto, tanto tempo che non viene più messo nemmeno un chiodo, quindi c'è la necessità di adeguare anche quello che già abbiamo sul nostro territorio. Però l'ho detto prima, lo ribadisco, facciamoci gli auguri di Buon Natale in questo periodo, rivediamoci dopo le feste per affrontare questi temi, ma vorrei segnalarlo senza polemica perché sono temi che in questo momento devono essere anche confrontati con un periodo un po' particolare e quindi teniamoci gli auguri di Buone Feste, di Buon Natale e di un felice anno 2014. Grazie. Grazie. Grazie.